C'era una volta una città chiamata Ostia, che secondo la leggenda fu fondata dal quarto re di Roma, Anco Marzio. Iter Ostiense è un'app rivolta ai bambini che vogliono scoprire il parco archeologico di Ostia Antica. La tecnologia incontra all'archeologia un percorso ludico didattico per raccontare e valorizzare un luogo storico. Il progetto è stato presentato presso l'Università Europea di Roma. Iter Ostiense è un percorso ludico didattico che è rivolto agli studenti delle scuole primarie e ha come obiettivo quello di raccontare in modo nuovo il parco archeologico di Ostia Antica e lo fa attraverso uno storytelling sia digitale che non, utilizzando nuove tecnologie e visite direttamente sul campo. Quindi una serie di attività che coinvolgono un virtual tour, un'applicazione in realtà aumentata e altre attività specifiche da fare proprio del parco archeologico. Un tour virtuale realizzato con tecnologie informatiche rivolto agli alunni della scuola primaria. Lo che teniamo a sottolineare è frutto di un ampio lavoro di ricerca anche storica, archeologica ed epigrafica sui personaggi e i luoghi rappresentati. Le nostre aspettative sono molto alte e Ostia Antica è un parco archeologico che sta proprio lavorando molto sulla valorizzazione, quindi ci sono eventi su eventi e il nostro percorso interattivo, virtuale punta proprio a una forte valorizzazione, quindi ci aspettiamo presenza, ci aspettiamo coinvolgimento e partecipazione attiva dei bambini.